Nell'aula magna dell'ospedale Cervello di Palermo ad ospitare il seminario sulla corretta applicazione del piano regionale di prevenzione 2020-25. Il piano regionale della prevenzione 2020-2025 è, in continuità con quello precedente, il quadro logico generale all'interno del quale si intestano tutte le azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie portate avanti dalla regione siciliana nella sua interezza. Quindi non soltanto dall'assessorato regionale alla salute con i propri dipartimenti ma anche e direi soprattutto dalle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della regione siciliana. In un'ottica di totale trasversalità ed intersettorialità e soprattutto direi di sinergia con il resto della popolazione, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, INAI, l'ufficio scolastico regionale, insomma tutto il mondo coinvolto perché la salute pubblica di fatto interessa ognuno di noi. Il piano regionale di prevenzione si propone 6 macro obiettivi, 91 obiettivi strategici da raggiungere con 14 programmi, 10 programmi predefiniti e 4 programmi liberi. Di fatto i programmi all'interno del piano della prevenzione sono 14, 10 programmi predefiniti e 4 programmi liberi. Predefiniti perché comunque sono uguali per tutte le regioni a livello nazionale quindi con uno standard dettato dal Ministero. 4 sono programmi liberi perché sono stati realizzati in funzione dei bisogni di salute della popolazione siciliana. Quindi la differenza è soltanto dal punto di vista poi del profilo di salute. Il piano regionale della prevenzione approvato con decreto assessoriale salute numero 1438 rafforza una visione complessa che considera la salute come il risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente, secondo l'approccio definito dall'OMS One Health. Le finalità sono quelle di diffondere su tutto il territorio regionale metodologie e modelli basati sui principi di intersettorialità, setting, life course, One Health, equità, formazione e comunicazione. Oggi presentate un report sull'open day itinerante dove avete raggiunto i comuni, dove avete elargito 11.000 prestazioni. Sì, è stato un risultato per noi considerevole che ha confermato la qualità delle nostre scelte. Mettere in campo una sanità che possa essere la più disposta ad abbracciare e andare incontro i nostri cittadini in tutte le loro realtà comunali affinché si possa promuovere l'avvicinamento del cittadino all'attività di prevenzione. Il seminario esplicativo è rivolto a tutti gli interessati, popolazione, scuole, associazioni di categorie, comuni, province, assessorati, forze dell'ordine e ovviamente aziende sanitarie ed ospedaliere compresi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, i medici del lavoro e i medici competenti. I medici sono pronti a fare la loro parte e la prevenzione rientra proprio nei nostri quattro punti fondamentali dell'agire medico, il cosiddetto atto medico. I medici devono fare la loro parte perché nel loro ruolo proprio deontologico ed etico, quello di occuparsi di prevenzione, noi siamo pronti. Grazie. 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 Grazie.